E' bello a tutti ragazzi, oggi vi voglio farvi vedere il mio zaino per la scuola Allora, io ho come zaino il jackpack Il jackpack, se riesco a farmi vedere Sembrava di così Ma questo non è uno zaino comune, infatti guardate Se stacco questi Aspettate E se io Andiamo a fare Tolgo questa zip Diventa Aspettate Diventa Uno zaino per il jackpack Infatti è un jackpack o qualcosa che si indossa per il tempo libero E poi qui, quando sta con questa parte E' uno zaino con una ferma diversa Adesso taglio, devo rimettere tutte le parti Ok Abbiamo Ecco qua, quindi questo è il mio zaino Tra l'altro io voglio preparare il mio materiale scolastico Aspettate 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 Questa parte Aspettate Ok, ce l'ho fatta E adesso Il mio materiale scolastico Ecco Qui dentro Ho il mio materiale Che poi cambierò E qui dentro Ho un'altra cosa Sì Ho il mio di olio Bello Che poi Lo cambierò Ok, lo resta di dentro E niente E' finito Così Il video Dove vi ho fatto Vedere il mio zaino Commentate Un bel like Scherete al canale Tivate al caperino E niente Adesso Il video Gamble fans